E con ogni nuova notte, l'urlo di un bambino diventa sempre più forte, più terrificante e vicino, finché le tue orecchie non iniziano a sanguinare. Questo è il mito dell'orfano. Come vedete da qui siamo nella snapshot 17v17a, questa è la versione di Minecraft in cui appare l'orfano. Qui noi creiamo un nuovo mondo, chiamato ovviamente Orfano. Via. Ho installato un programma dove posso aprire questa versione facendo così, apri chiamato 7zip. Ho tutti questi file e li rinominiamo in Orfano. Beh l'orfano tecnicamente si dovrebbe far vedere. Comunque guardate le texture di una volta quanto erano strane diverse da oggi. Quindi ho costruito una fortezza ed era diventata notte. Ero molto spaventato, ma ero intenzionato a scoprire chi diavolo fosse questo Orfano. Direi che è decisamente arrivata notte, quindi entriamo in casa. Ma cos'era? Ehi, che cos'è stato? Ah, oddio ma era solo una pecora. Che spavento. Vabbè prendo tutta la lana perché mi serve per il letto allora. Nel corso dei prossimi giorni ho espanso la mia base e ho iniziato a craftare degli attrezzi in ferro. Ma purtroppo non c'è stato nessun segno dell'Orfano o delle sue urla. Io non ho ancora trovato niente che riconduca all'Orfano. Non so più che cosa fare, ci sono già abbastanza deluso. Mi aspettavo già che dal primo secondo in questo mondo ci sarebbe stato qualcosa. Ho anche camminato in lungo e in largo per trovarlo, ma ancora niente. È come se mi mancasse effettivamente qualcosa. E penso proprio che dovrò fare delle ricerche in merito. Quindi ho speso il resto della notte ricercando delle cose su internet. Non dovevo farlo. Le cose che ho trovato sono terrificanti. Vi confermo che ho trovato delle prove. Cercando in giro per internet ho trovato questi screenshot. La persona che li ha fatti diceva che li ha costruiti proprio per spawnare l'Orfano. E infatti andiamo ad indagare meglio questa storia. Allora c'è questa costruzione dove bisogna mettere tutta questa lava e poi dopo qui la fence di legno. Il problema è che dice che bisogna legarci un animale domestico. E poi dopo bruciarlo qui dentro. È orribile come cosa. Però ci proviamo. Poi anche qua c'era questo altare. Che se ci pensate l'altare classico di Erobrine. Una cosa del genere. E quindi mi chiedo onestamente. Se questo magari riesca a spawnare veramente l'Orfano. E poi c'è un'ultima cosa che ho trovato. Che sarebbe questo. Dove c'è un po' di redstone. Come vedete qui ai lati. C'è della netherrack. E quindi sicuramente bisognerà andare per un secondo nel nether. C'è dell'oro. Un blocco di oro e delle torci di redstone. Io non lo so. Questa storia è abbastanza inquietante. Guardate poi qui come è tutto quanto buio. Direi di provare con il primo dove c'è l'animale domestico. Vediamo se quello funziona. E dopo tutte queste prove che c'erano su internet. Ho iniziato a lavorare per trovare e spawnare quell'Orfano. Il mio obiettivo era diventato quello. E così ho iniziato a raccogliere i materiali necessari. E ho iniziato con il primo esperimento. Allora io vorrei fare la costruzione qua dove siamo lontani dagli alberi. Perché così almeno non c'è tutta la storia del bruciare gli alberi. Anche perché poi dopo dovrebbe essere pericoloso. Allora nell'immagine che sto guardando ora. C'era tutto quanto circondato così di queste sbarre. Ottimamente. E poi dopo così. Perfetto. E qui ci va questa fence. E ora abbiamo solo bisogno dell'animale domestico. Ho preso tutte le ossa per prendere un lupo. Nel caso lo trovi. Perché penso che sia il miglior animale domestico che ci sia. Eccoti qua sparchi. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Oh perfetto. No ora mi sento in colpa raga. Ok dobbiamo farlo di notte. Vieni con me sparchi. Mi dispiace un pochino farlo però. Però dobbiamo farlo. Io mi ricordavo di aver messo la fence. Mi sembra strano. Tornate indietro con il video per vedere se l'avevo messa perché non mi ricordo. Allora sparchi mi dispiace molto. Dobbiamo farlo. Per fortuna è solo un gioco. Quindi non mi sento troppo in colpa. Mi dispiace vai nel lava. Che brutto. È successo purtroppo. Sa per succedere qualcosa? No. Non è successo niente. Abbiamo fatto fuori un cane per niente. In questi casi non bisogna demordere. La soluzione si trova. Infatti ho continuato con gli esperimenti. Dovevo trovare questo orfano ormai. La prossima cosa che dovevamo provare era tipo nel nether. Perché dovevamo prendere della netherrack e fare tipo il portale di aerobrine. O una cosa del genere. Andiamo. Ma guardate quanto era brutto il nether prima. Nelle versioni vecchie. E questa è pure una snapshot. Prendo un po' di netherrack. Ottimo. Siamo ritornati. Buttiamo l'ossidia. Non ci serve più a niente. Tanto non è un mondo vanilla. Era così. Bisognava mettere nove blocchi d'oro qua. E uno di netherrack qui. Non mi ricordo se c'era anche altre cose. Eh sì cavolo. La sto vedendo qua in parte. Accidenti. C'erano bisogno anche di redstone torci. Devo andare a prenderle. Ottimo. Ora scappiamocene via prima che arrivino i mostri. Allora le torce. A quanto ho capito. Sono negli angoli. Era una così. Una così. Una così. Ed una così. Dai per favore. No. Non succede niente. Dai cavolo. Non so se questa è una cosa strana. Ma ogni volta che finiscono a costruzione. Arrivano degli zombie. Però no. Probabilmente solo perché no. E dopo tutte le costruzioni che ho fatto. Dalle evidenze che avevo trovato. Nessuna. Mi dava il risultato sperato. Non sapevo più che cosa fare. Ragazzi. Io non so più. Cioè sono. Non sto capendo. Ho fatto tutte queste cose ma. Sono passati tanti giorni da quando ho iniziato questo mondo. Ho costruito pure quella casa. Ho fatto un sacco di cose ma non è ancora successo niente. Non ho ancora avuto la prova. Nessuna piccola piccolissima prova della possibile esistenza di questo orfano nel mondo. Devo iniziare a togliere tutto. Ma cos'è stato? Fermi tutti. Avete sentito quel rumore? Era un rumore di TNT. Ma da dove caspita arrivava? Ma continuiamo. Ma c'è la TNT qua. No aspetta un attimo. Non può esserci la TNT. C'è un pappagallo. I pappagalli fanno i versi che sentono. Ehi. Ho sentito una TNT. Ne sono sicuro. Almeno quella cosa del... O sto completamente impazzendo. È successo di nuovo. Ok, ok. Sta iniziando ad essere particolare come cosa raga. Sono abbastanza sicuro che non ci sia niente che possa fare del rumore. A meno che qua sotto non ci sia qualcosa di strano. Tipo una strega o qualcosa. Ma non mi sembra. State a vedere che forse sta per succedere qualcosa. L'ho risentito qua. Così è diventata una questione di principio. Dovevo capire da dove provenisse quel rumore. L'unico posto dove sento questo rumore adesso è qui. Allora io non mi ricordavo che ci fosse una miniera qui. Però andate indietro con il video per vedere se c'era una miniera. Perché non me lo ricordo. Cioè mi pareva di no. Però sicuramente mi sto confondendo. Oh, c'è un pappagallo. Ma allora ecco che cos'era. Ma dai, ma io mi spaventavo. Perché sapete, i pappagalli possono fare quella cosa della... Del rumore. Cioè praticamente possono fare ps... Cioè insomma possono imitare tipo... Anche i creeper possono fare quel rumore. Soprattutto i creeper possono imitare. Comunque non è il momento di distrarsi con i pappagalli. Dovemo concentrarci sul orfano. Anche se ormai questo orfano non si sta più facendo vedere. Non si sta facendo vedere. Che pizza. Io pensavo che ci fosse la prova. Invece non c'è. Quanto mi sbagliavo. Guardate queste scene. Avete sentito? Cos'era? Credo che sia stato lui. Ha detto tipo mamma mi pare di aver capito. Oddio finalmente. Ho urlato. Ho urlato. Ho urlato. Oh mio Dio siamo attenti. Si potrebbe manifestare di nuovo. Si potrebbe manifestare di nuovo. Questa è stata penso la prima apparizione dell'orfano. Per davvero. Oh mio Dio. Io stavo andando a prendere qualcosa. A vedere cosa c'era in questo tempio. Sta risuccedendo di nuovo. Aia. No no no. No no no. Devo uscire. Devo uscire. Dai. 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 Ho perso tutte le mie cose. Accidenti. Dopo questo avvistamento. Le cose sono iniziate a succedere sempre più spesso. Ormai era un dato di fatto. L'orfano era nel mondo. Cos'è stato? Il vetro si è completamente spaccato. Tutto il vetro della casa. Credo di aver capito. Ogni volta che sentiamo l'urlo succede qualcosa all'interno del gioco. Quindi ho iniziato a raccogliere dati. Per comprendere meglio da dove provenisse questo orfano. E che cosa volesse. Inizio a cercare indizi e dati sul suo comportamento. Per comprenderlo meglio. Ma quello che ho trovato è stato a dir poco agghiacciante. Ma ci sono degli scheletri. Ho paura che ci sia qualcuno qua. Perché avevo sentito un altro urlo prima. Però non so da dove caspita vengono. Vedete che le frecce vanno da sopra. What the f... Raga ma che cacchio. Stanno droppando dal cielo le frecce. Ne sono sicuro? Beh abbastanza sicuro almeno. Eh ho visto. Veniva da qui praticamente. No. No 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 no. Scappa 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 scappa. C'è qualcuno che mi spara dal cielo. Ne sono sicuro. Che diavolo è? No no no. Questa cosa non va bene. Ma che caspita è? Questo dannato orfano è qui all'interno del mondo. Io non so più come fermarlo ormai. Ma avete visto? Ha aperto la porta e c'è scritto Pozzo della Morte. Ma dove è in casa mia? Non credo. Qua non c'è nessun Pozzo della Morte. Penso in tenda da quella parte. Che diavolo c'è da quella parte? Forse è lì dove avevo fatto questa costruzione della lava? Può essere? Tipo... Oppure magari più in là. Non lo so. Comunque avete notato una cosa raga. Mi aveva fatto una freccia. Prima mi stava tirando le frecce. Vedete che allora sono collegate le cose. E mi voleva uccidere. Ecco vedete? Di nuovo una freccia. E mi sta anche dicendo la direzione nella quale andare. Oh cos'è l'urlo? Oh ma c'è qualcosa che sta salendo. Ma che caspita è? No 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 no. Mi stanno... Ma che caspita? Mi stanno uscendo delle cose. Aiuto! Ma raga che caspita è successo? Guardate qua quanta lava. Che caspita è? E sta scendendo in un qualche modo. Ma che caspita? No 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 devo... No 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 no. No 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 mi sta uccidendo. Mi sta uccidendo. Sono morto. Sono morto. Questa cosa io non... Non l'ho mai. E poi mai potete immaginare dove... Caspita sono finito. Ma che cos'è questa? È una S? E da questa S ho iniziato a cercare per tutta la mappa. Per capire che diavolo fosse quella S. Ma non ce n'era solo una. Ce n'erano tantissime in giro. Tutte nei punti di interesse. E pensandoci la S compone la parola solo. Quindi devo trovare dei posti di solitudine. Quindi ragazzi non lo so. Cioè questo posto è molto molto solo come vedete. Più andavo nei posti dove c'era la solitudine. E più le cose diventavano oscure. Mi è comparso un altro coppia. Ma quello... Che cos'è quel... È lui. Guardate. È l'orfano. Ed è scomparso. Avete capito cos'è quindi? Avevamo capito bene. Ci stiamo in effetti davvero avvicinando al discorso di prima. Cacchio. Praticamente lui è un orfano. Per chi non sapesse cosa vuol dire un orfano. È un bambino che è stato abbandonato dalla propria famiglia. E evidentemente sta apparendo qua su Minecraft. Infatti lui appare sempre nei posti dove è solo. Quadra tutto. Perché i bambini orfani sono soli. Perché non hanno famiglia no? Ragazzi non ci vedo più niente. Che diavolo è successo? Vedo solo la luna. Guardate qui. No. Questa cosa è assurda. Vi giuro. Cioè non... Non riesco più a muovermi. Non riesco più a muovermi. Raga. Mi ha ucciso. Non posso più. Non posso più respawnare. C'è scritto vattene da questo mondo. Ma che caspita. Questa è una cosa che non mi sarei mai immaginato. Questa è una cosa che non mi sarei mai immaginato.